È una biblioteca inclusiva di letture tattili e digitali, per questo si chiama TD Box, cioè una scatola viaggiante, una scatola su ruote, che contiene all'interno non solo delle letture tattili e digitali, quindi per bambini, disabili, visivi. Libri tattili da toccare, manipolare, sentire e ascoltare, oltre che guardare. Anche ad Arezzo, per la prima volta in Toscana, è arrivata la TD Box, una vera e propria biblioteca viaggiante inclusiva, ospitata alla Casa dell'Energia. Noi le apriamo e le portiamo in giro. Sono come due grandi cassapanche, piene di tutto. L'obiettivo è quello di far capire che le diverse abilità possono incuriosire e essere utili a tutti. L'evento Leggimi con le dita vuol promuovere l'inclusione attraverso la fruizione dell'arte e della lettura. L'unica modalità per realizzare dei libri tattili e illustrati è quello di farli a mano, quindi i tempi di realizzazione e di produzione di ogni libro sono molto lunghi e quindi i costi e la possibilità di distribuire questo tipo di editoria è molto limitato. E' per questo che noi realizziamo questa serie di piccole manifestazioni, le portiamo in giro, proprio per far conoscere la lettura inclusiva. Un libro per bambini, innanzitutto è un libro per bambini, quindi deve piacere a una fascia di età. Però nascendo all'interno della didattica speciale, quindi all'interno della didattica inclusiva per disabili visivi, deve avere anche determinate caratteristiche. Ha il doppio testo. E l'altra caratteristica è che le illustrazioni sono appunto tattili, quindi si possono apprezzare con gli occhi, ma si possono apprezzare anche con le mani. Proposti anche laboratori e workshop rivolti non solo ai bambini, ai ragazzi, ma anche alle famiglie e agli insegnanti. Qui abbiamo l'occasione di avere tanti oggetti, tanti strumenti che facilitano l'inclusione di persone, studenti povedenti o non vedenti, ma abbinato a questo c'è un percorso di formazione e workshop molto importante che permetterà ai docenti di relazionarsi meglio con gli strumenti e applicarli nella didattica quotidiana. A breve, infine, anche la realizzazione di una riproduzione tattile dell'affresco La Maddalena di Piero della Francesca. Dopo la chimera faremo anche La Maddalena tattile, perché La Maddalena tattile rappresenta il passo successivo sull'arte per la fruizione in maniera autonoma anche da parte dei soggetti minorati della vista di un'opera d'arte particolarmente importante e qualificante per la nostra realtà cittadina. Sarà ovviamente coadiuvata anche da dei QR code che faranno quello che devono fare, ma sicuramente l'aspetto tattile rappresenta un'innovazione sicuramente importantissima.